Abbiamo organizzato questo convegno per questa domenica con inizio alle ore 18 presso il Museo Michetti di Franca Villammare dal titolo La famiglia, il cuore della società. Un appuntamento importante perché riteniamo che le tematiche in maniera di famiglia siano centrali e prioritarie soprattutto in questo momento storico, in questa fase storica. Dicevamo un appuntamento importante che avrà, tra i relatori di assoluto rilievo, aprirà il convegno, l'assessore regionale alle politiche sociali della regione Abruzzo, Marinella Scocco e poi ci saranno Angela Rossi che è docente di sociologia presso l'Istituto Tognolo di Pescara, sociologia dell'educazione, poi c'è l'avvocato Rossella Piccone che è mediatrice familiare e Nicola Triforgi già procuratore della Repubblica. Poi al termine del convegno ci sarà un momento artistico e musicale con l'attore e regista Edoardo Siravo nonché il maestro Davide Cavuti che è un importante compositore per il cinema e per il teatro e che quindi animerà la fase immediatamente successiva al convegno.